Jean-François Millet Ecco, devo dire che gran parte delle cose che sto per dirvi stasera lo devo ad una mostra che è stata fatta per il meeting di Rimini Meeting per l'amicizia fra i popoli del 2014 intitolata Un dramma a volto di splendori a cura di Mariella Carlotti Uomini e donne al lavoro nella pittura di Millet è una mostra che mi ha ispirato tantissimo una mostra che abbiamo fatto vedere anche nel nostro paese durante la festa patronale e che poggia essenzialmente su questa considerazione che Jean-François Millet è stato un pittore che ha scelto come tema principale il lavoro e non il lavoro delle persone, non so, altolocate no, il lavoro dei contadini come suo soggetto principale quasi esclusivo da un certo anno in poi come fra poco spiegheremo perché il lavoro ha una grande dignità come scriveva nel 1910 Charles Peggy il disamore generale al lavoro è la tara più profonda la tara fondamentale del mondo moderno ecco, in un certo senso con i suoi quadri Jean-François Millet ha voluto dare dignità, dicevamo, al lavoro addirittura una statura epica, vedremo ai personaggi dei suoi quadri e questo è qualcosa di veramente originale forse è l'aspetto più originale che lui ha dato insomma alla storia dell'arte quindi questa centralità del lavoro e delle classi umili in questo sicuramente non era l'unico ricordate che abbiamo fatto una serata su Courbet un video insomma quantomeno su Courbet abbiamo fatto parecchi video anche su pittori realisti come Courbet ebbene però c'è una differenza di fondo a Millet interessa l'aspetto umano proprio l'aspetto esistenziale di questi contadini un salutone intanto a Barbara e Simone che sono due grandi amici che mi stanno seguendo su Instagram ecco, a lui interessa il lavoro dei contadini interessa l'aspetto umano esistenziale non interessa l'aspetto rivendicativo sociale, sociopolitico però è chiaro che io una considerazione la vorrei fare è perché per primo Jean-François Millet ha disegnato in quadri di dimensioni eccezionali grandissime di contadini i lavoratori dei campi è perché ha iniziato lui questo percorso che poi si è arrivati anche ai quadri di Perizza da Volpedo quindi insomma è chiaro il quarto stato diciamo è chiaro che lui ripeto a lui non interessa l'aspetto politico sociale interessa l'aspetto umano però sicuramente è uno di quei pittori che ha per primo messo a tema questa classe sociale Pierre Pierre scrive il seminatore è stato ripreso dal post impressionista Van Gogh anche lui molto interessato agli umili della società esatto esatto e infatti questa è un po' diciamo la sorpresa che ci ha rovinato tra virgolette sto scherzando ovviamente Pierre Pierre cioè Millet è grande anche perché è stato il maestro di Van Gogh nel senso che Van Gogh ha copiato letteralmente copiato i suoi disegni le incisioni di Millet i contorni dei quadri di Millet anche se ovviamente poi ci ha messo del suo il nostro Van Gogh ma ripeto questo è un argomento che affronteremo in seguito chi è Jean-François Millet anzitutto era il primo di una serie di molti figli di una famiglia di proprietari terrieri che ha avuto vicende economiche altalenanti era abbastanza agiata poi insomma andò un pochettino in difficoltà comunque loro avevano già deciso che il loro figlio maschio che sarebbe nato il primo genito si sarebbe chiamato Jeanne caso volle che nascesse proprio il giorno di San Francesco cioè il 4 ottobre del 1814 ecco il motivo per cui alla fine attaccarono al Jeanne che era già stato determinato in partenza anche François ecco il motivo per cui lui si chiama Jean-François Millet è in un certo senso è quasi già segnato da questa attenzione per la natura l'ambiente che chiaro è come ben sappiamo un tema importante nella religiosità di San Francesco e per gli umili ecco ecco qui abbiamo per esempio una dipinto che è la casa della famiglia a Grouchy un piccolo villaggetto proprio nella Francia del centro nord diciamo dove lui spesso andava e ritornava perché dovete sapere che la famiglia anche con qualche sacrificio riuscì una volta che intuì diciamo le abilità le competenze in campo artistico di questo figlio riuscì a fargli frequentare delle scuole anzitutto nel 1835 a Chebourg e poi nel 1837 a Parigi quindi la Ecole des Beaux-Arts la scuola di belle arti insomma diventa allievo di Paul de la Roche e sicuramente è tutto proiettato in questi anni giovanili nella Parigi che è un grande importante centro culturale artistico del tempo però lui tutte le stati ritornava a Grouchy dove c'erano i suoi fratelli e le sorelle numerose ritornava anche a lavorare nei campi per la famiglia e fece anche dei quadri dei dipinti di una donna che fila la seta e che poi dopo andiamo a scoprire che è una sorella di Millet andiamo a leggere adesso proprio i testi che Jean-François Millet ha scritto o quanto meno le lettere per esempio non è che abbia fatto dei trattati assolutamente no però un suo amico che era della scuola di Barbizon come lui se non sbaglio si chiamava Sissier pubblicò la sua biografia che pensate non è stata mai neanche tradotta in italiano ebbene all'interno di questa biografia ci sono dei testi suoi appunto magari delle lettere che lui spediva a Sissier perché erano molto amici continuavano a sentirsi i due fra di loro e quindi Sissier riporta queste parole per esempio che cosa scrive Jean-François Millet il mio programma è il lavoro poiché ogni uomo è destinato alla sofferenza del corpo tu vivrai col sudore della fronte è scritto da secoli destino immutabile che non cambierà mai ciò che tutto il mondo dovrebbe fare è cercare il progresso nella sua professione sforzarsi ogni giorno di migliorare di diventare forte e abile nel proprio mestiere e superare il prossimo per abilità e coscienziosità nel lavoro questa è per me l'unica strada tutto il resto o è sogno o è calcolo ecco attenzione però dobbiamo dire una cosa molto importante in realtà la svolta decisiva nella vita di Jean-François Millet avvenne nel 1849 lui era ancora a Parigi e stava studiando ed era già introdotto con un certo anche successo all'interno della società borghese per esempio era diventato un buon ritrattista apprezzato quindi faceva ritratti perché questo gli permetteva di sbarcare il lunario quindi di insomma di sopravvivere anzi era messo anche abbastanza bene nel senso che addirittura anche gli era possibile tornare come abbiamo spiegato prima in casa la famiglia magari anche aiutare la famiglia e quindi ricompensare di tutti gli sforzi che avevano fatto nella sua famiglia i genitori i fratelli lo zio prete per farlo studiare però poi nel 1849 ci fu un'epidemia di colera a Parigi talmente forte che lui decise di andare via da Parigi e trasferirsi a Barbizon dove c'erano alcuni amici pittori che si erano già trasferiti insieme con la sua seconda moglie perché la prima era morta di polmonite ed era una moglie anche abbastanza ricca invece la seconda che era una sua domestica praticamente appunto insieme con lui si trasferì a Barbizon dove tutti questi pittori stavano dipingendo per esempio la natura i paesaggi soprattutto c'era una bellissima foresta a Barbizon e quindi dipingevano spesso i suoi amici questa foresta ma lui si volge dall'altra parte verso i campi e dipinge i campi proprio in questo per esempio quadro della partenza per il lavoro del 1850-51 siamo all'inizio di questa sua esperienza a Barbizon come vedete il giovane che porta il rastrello appoggiato sulla spalla e insieme la donna partenza per il lavoro da qui partiremo e qui finiremo il nostro percorso su Jean-François Millet perché questa è la via la strada dicevamo per la realizzazione dell'uomo aveva in mente questa cosa ed è una cosa vera l'uomo si realizza nel lavoro lo sto verificando io in prima persona cioè il lavoro non è una maledizione ma il lavoro è la possibilità che noi abbiamo per esprimere noi stessi per dare un grande contributo all'umanità ecco qui abbiamo un altro quadro di quel periodo proprio di quel 1850 i raccoglitori di Fieno sono i primi momenti in cui lui descrive rappresenta scene che vede della vita contadina lì a Barbizon così simili a quelle di Grouchy del resto cioè del posto da cui lui viene per cui lui dipinge quello che è sempre stata la sua vita in un certo senso è vero è stato a Parigi per un decennio però non è stato così attratto dalla vita cittadina e invece ha recuperato una volta che si è trasferito a Barbizon ha recuperato questa attenzione alla vita degli umili ciao Vagno Marcos Dos Santos buon anno a tutti voi buon anno a te e anche a voi è vero dice anche Barbara è fondamentale fare il lavoro che piace davvero ecco non sempre è facile questo è vero è una conquista non facilissima però anche i lavori più umili hanno in sé qualcosa di veramente grande basta cercare di scoprire questa grandezza spesso anche semplicemente la grandezza delle relazioni eccola qui la giovane donna che fa il burro realizzata da lui tra il 48 e il 51 come vedete qui per esempio questo quadro si trova adesso a Boston i quadri di Millet non si trovano solamente in Francia ma anche negli Stati Uniti d'America ne abbiamo uno nella galleria d'arte moderna di Milano che abbiamo visto insieme ricorderete la serata il video che abbiamo fatto insieme cosa scrive ancora Jean-François Millet ogni soggetto è buono si tratta di renderlo con forza con chiarezza in arte bisogna avere un pensiero madre esprimerlo in modo eloquente conservarlo in sé e comunicarlo agli altri fortemente l'arte non è una partita di piacere è una lotta un ingranaggio che stritola io non sono un filosofo non voglio sopprimere il dolore né trovare una formula che mi rende stoico e indifferente il dolore è forse ciò che fa più fortemente esprimere gli artisti ecco perché quella mostra era stata intitolata il dramma così pieno però di splendore nel senso che un dramma pieno di splendore colmo di splendore nel senso che rimane il dramma del lavoro della fatica soprattutto poi Jean-François Millet si trova davanti dei contadini che non usufruiscono più di tanto di nuove tecniche agricole e quindi devono sudare e faticare e lavorare la terra dalla mattina alla sera per poter trarre quel tozzo di pane per sopravvivere loro stessi e la loro famiglia Millet dice il nostro Pierre Pierre esprime in pittura il naturalismo di Zola in letteratura la rivoluzione francese e poi i moti del 48 stimolano l'evoluzione artistica si è vero sono anni di grandi fermenti in Francia e c'è stata la rivoluzione francese e poi c'è stata la rivoluzione del 48 indubbiamente poi il naturalismo senz'altro c'è da dire però che come stavo spiegando prima lui non parte da presupposti diciamo positivisti a lui interessa la realtà senz'altro descrive la realtà quindi è un pittore realista assolutamente però con questo taglio particolare cioè esistenziale e umano ancora scrive sei seduto sotto gli alberi e provi tutto il benessere tutta la tranquillità che ti è possibile godere poi all'improvviso scorgi una povera figura che scende per il sentiero portando il peso di una fascina ecco spiega proprio come ha realizzato questo quadro che noi adesso stiamo vedendo che è un quadro di contadine che portano fascine di legno e la rappresentazione del dramma della fatica del lavoro delle schiene piegate di queste donne nel portare questo fascio enorme di fascine l'inatteso e sempre sorprendente modo in cui questa figura compare ti riporta controvoglia all'infelice condizione dell'essere umano alla grande stanchezza ti dà sempre un'impressione come quella espressa dalla Fontaine nella sua favola del taglialegna quale gioia ha avuto da quando è nato esiste uomo più povero su questa rotonda terra ecco sicuramente quindi c'è questo aspetto dicevamo della consapevolezza di una condizione sociale di grande povertà di grande fatica e questo è assolutamente in dubbio questo peso lo possiamo vedere osservando questo quadro di Millet tuttavia dobbiamo tenere presente una cosa che quello che ci sta dicendo Millet come dire non ha nulla a che fare con quello che descrive Zola per esempio nei suoi romanzi perché perché Zola comunque ambienta i suoi romanzi essenzialmente nella città e nella città non c'è solamente la fatica la povertà la miseria e su questo siamo assolutamente d'accordo ma c'è anche una condizione di sostanziale infelicità che non può essere mitigata neanche con i soldi con il denaro anzi spesso nei romanzi di Zola è proprio la ricerca dei soldi del denaro quella che porta alla perdizione i protagonisti dei suoi romanzi ecco al contrario è vero il dramma così pieno di splendore dicevamo è vero che Mieci rappresenta scene di grande fatica guardate per esempio questo quadro che si intitola il vignaiolo e riuscirete subito a capire come sia spossato quest'uomo che ha lavorato presumibilmente tutto il giorno dall'alba al tramonto in questa vigna e adesso sembra quasi che perfino le mani ciondolano dalla fatica estrema che ha provato tuttavia ecco poi c'è l'aspetto che da adesso in poi vedremo c'è comunque la grande dignità di queste persone la possiamo comunque già intuire anche in questo quadro se vogliamo la dignità ad esempio è espressa dalla centralità del personaggio cioè questo vignaiolo è al centro del quadro inserito in una sorta di triangolo di luce cioè il bianco della luce ecco è presente nella sua camicia quindi come dire malgrado tutto il fango la fatica i piedi sporchi si è tolto gli zoccoli le mani penzolanti perché non ha più neanche un grammo di energia alla fine della giornata malgrado tutto questo è solare nel senso è proprio inserito in un triangolo perfetto in un triangolo equilatero perfetto al centro della scena e ha quindi una grande dignità malgrado tutta la fatica che provi che possiamo vedere anche in quest'altro quadro che si intitola donne intente a cucire alla luce di una lampada è vero è una luce fievole teoricamente ma all'interno del quadro abbiamo per esempio proprio quello che loro stanno lavorando che stanno cucendo è al centro del quadro ed è bianco esattamente come dicevamo la camicia di quel vignaiolo nel quadro precedente quindi non importa per esempio non importano spesso avete visto i dettagli dei volti a Jean-François Millet importa dare una statura importante a questi personaggi umili che viene data esaltando proprio questi aspetti umili questa luce fioca della lampada che è comunque centrale anch'essa fra le due donne che stanno cucendo e soprattutto questa tela che stanno cucendo bianca che quindi riflette e espande si può dire dal centro si espande la luce verso tutto il resto della scena ma vediamo che cosa dice lui stesso sui quadri che stava dipingendo qualcuno mi dice che nego le seduzioni della campagna io vi trovo ben più che delle seduzioni degli infiniti splendori cioè che cosa vorrebbe dire con questa frase Jean-François Millet cioè che non sta dipingendo una campagna idillica carina non so fiori piante belle eccetera no ci sta dipingendo essenzialmente degli uomini e delle donne e lui trova una seduzione in questo più che nei paesaggi per esempio vedo come lo vedono loro i piccoli fiori di cui Cristo diceva vi assicuro che lo stesso Salomone in tutta la sua gloria non ha mai avuto una veste come la loro ecco qui dobbiamo fare una parentesi la parentesi riguarda il modo di pensare di Jean-François Millet Jean-François Millet non era assolutamente un cristiano praticante malgrado ciò era stato innervato da una cultura la cultura contadina tradizionale di sua nonna eccetera per cui poi come vedete anche negli scritti emergono queste frasi che testimoniano di questa sua eredità vi assicuro che lo stesso Salomone cioè i contadini che lavorano la terra trovano in queste piccole gioie qualcosa di stupendo di impareggiabile esattamente come si dice appunto lo stesso Salomone in tutta la sua gloria non ha mai avuto una veste come la loro come i fiori come si dice appunto nella Bibbia vedo molto bene le aureole dei soffioni è il sole che diffonde la sua gloria laggiù ben oltre i paesi sulle nuvole allo stesso modo vedo nella pianura tutti i fumanti i cavalli che lavorano più lontano in un posto roccioso un uomo tutto curvato di cui per tutta la mattina si sono sentiti gli ah cioè le urla di dolore e che adesso cerca di raddrizzarsi un attimo per riprendere il fiato il dramma è avvolto di splendori eccolo qui la frase che ha dato il nome a questa mostra è una frase scritta proprio da lui cioè scritta da Jean-François Millet il dramma di questi contadini che hanno sono sempre chini tutto il giorno per terra e hanno male fanno fatica però è avvolto di splendori gli splendori male fatica testimoniato da quelle urla di ah ecco di quel contadino che continua a urlare sin dalla mattina per tutta la mattina ma è avvolto di splendori dicevamo anche per via di quello che loro stanno comunque facendo che assume una grandezza una grandezza epica lui dipinge contadini come se fossero quasi delle statue delle statue classiche quasi classiche o neoclassiche provate a vedere anche questo quadro per esempio dei piantatori di patate gente umile gente che pianta le patate e poi va a raccoglierne e generalmente riesce a raccoglierne appena appena per potersi sostentare eppure gente felice di quello che sta facendo ecco quello che differenzia i personaggi dei quadri dipinti nei quadri di Millet da quelli dei romanzi di Zola ah ecco il nostro amico Pierre Pierre ci dice c'è anche Dommier assolutamente anche Dommier è un altro pittore realista che rappresenta il lavoro in modo estremamente suggestivo me lo scrivo perché potrebbe essere un altro pittore su cui farò una serata allora stavamo dicendo ancora un altro brano scritto da Mie perché mai il lavoro di un piantatore di patate o di un piantatore di fagioli dovrebbe essere meno interessante o meno nobile di qualsiasi altra attività si dovrebbe riconoscere che la nobiltà e la bassezza risiede nel modo in cui tali cose vengono comprese o rappresentate non nelle cose in sé che cos'è nobile? è nobile che ne so partecipare ai grandi salotti di Parigi oppure è nobile piantare le patate ecco paradossalmente provocatoriamente Jean-François Millet ci dice è nobile magari piantare patate o fagioli più di partecipare ai salotti parigini perché quello che conta è il modo in cui queste cose sono comprese o rappresentate non nelle cose in sé ecco qui vedete per esempio un altro bellissimo quadro di contadini che portano a casa un vitello nato nei campi ecco questo quadro che è poi quello che si trova nella galleria d'arte moderna di Milano l'unico quando sono andato in realtà sono rimasto un po' deluso perché di dimensioni molto ridotte a differenza dicevamo di altri quadri di Millet che hanno invece dimensioni notevoli però se voi osservate questo quadro questa Lattaia Normanna Agreville questa donna insomma che si erge è veramente assomiglia ve l'ho già detto anche prima quasi per la posa ad una statua greca ma si tratta di una poveraccia che sta trasportando il latte sulla spalla sulla spalla sinistra eppure ecco ha una dignità ha una grandezza quasi epica guardate quelle figure scrive sempre Millet che si confondono nell'ombra del tramonto strisciano camminano ma esistono sono i geni della pianura è tutta povera gente c'è una donna tutta curva sotto il suo carico d'erba ce n'è un'altra che si trascina sfinita sotto un fascio di legno da lontano sono superbe oscillano le spalle sotto la fatica il crepuscolo ne divora le forme è bello è grande come un mistero e si capisce che lui pensava a queste cose mentre stava dipingendo questa donna e adesso arriviamo a uno dei suoi due capolavori conosciuti da tutti magari studiati anche a scuola che è quello delle spigolatrici l'altro è l'angelus arriviamo in un certo senso proprio al culmine della sua arte alla maturità espressiva alla massima potenza anzitutto dobbiamo spiegare che tipo di lavoro è quello delle spigolatrici in buona sostanza durante la giornata si è verificata la mietitura cioè c'è stata la mietitura dei campi e quindi sono state portate via tutte le spighe che appunto il lavoro anche come dire con una certa organizzazione e piano piano anche con una certa evoluzione delle tecniche e dei macchinari permette di sottrarre cioè insomma di tagliare e di sottrarre alla natura ebbene le spigolatrici semplicemente alla sera magari perché spesso l'ha già detto anche Emiliae l'ambiente in cui si circoscrivono questi quadri è quello del crepuscolo della sera ebbene alla sera queste donne raccolgono tutto quello che è rimasto poche spighe ma capite queste poveracce lavorano faticano si ammazzano si piegano per raccogliere quelle poche spighe che sono il resto l'avanzo di quello che hanno portato via gli uomini durante il giorno questo è importantissimo per capire la grandezza di questo quadro sta proprio nelle proporzioni fra le donne e gli uomini pensate che le donne sono in primo piano e hanno delle proporzioni molto grandi gli uomini sono sullo sfondo tanto che se uno non ci bada bene non riesce neanche quasi quasi a scorgerli sono sullo sfondo con tutti i covoni che hanno raccolto sui carri enormi quantità di spighe già raccolte e sistemate in enormi covoni balle eccetera ma sono di dimensioni piccolissime sullo sfondo mentre il quadro ha come protagoniste loro queste donne sono in un certo senso sono tre donne rappresentate che rappresentano le tre sequenze del lavoro delle spigolatrici cioè la donna che si china la donna che prende da terra la spiga e infine la donna che raccoglie le spighe ad esempio in una specie di insomma di grande marsupio chiamiamolo così per poter portare via poi queste spighe a casa e poi ricavarci qualche seme da mangiare in un certo senso è una scena cinematografica perché se noi come dire potessimo isolare queste tre figure e magari rappresentarle più e più volte una dopo l'altra con la tecnica che ha portato alla origine alla nascita del film vedremmo che sono una figura sola in un certo senso che però si divide in tre proprio perché per farci vedere tutto tutte le fasi del lavoro delle spigolatrici è sempre il solito lavoro quello che abbiamo visto anche di quell'uomo che tutta la mattina urla cioè il lavoro di chi si china e quando ci si china la terra è bassa si dice si fa fatica si fa molta fatica ma per cosa poi ma per quattro semi non so se ci rendiamo conto eppure queste donne hanno una dignità enorme il soprastante cioè colui che per conto del padrone deve controllare che i lavori nei campi procedano come previsto è inquadrato in fondo in alto a destra su un cavallo retto su un cavallo piccolissimo però tutti gli altri lavoranti sempre in fondo sulla sinistra piccoli anche loro perché? perché non hanno tutta la dignità che hanno queste donne il soprastante deve solo controllare che le donne prendano per esempio quello che aspetta loro cioè gli avanzi e non il buono tra virgolette il grosso del raccolto perché deve controllare questo? perché così il profitto aumenta le donne invece sono persone di grande dignità ah sì infatti c'è la poesia anche le spigolatrici di Sapri del Mercantini del 1858 no non credo che si sia ispirato anche perché è del 57 questo quadro quella poesia invece come dire semmai ha qualche attinenza con l'impresa di impresa tragica fallimentare di Pisacane che infatti proprio a Sapri andò e fu assalito Pisacane e i suoi mazziniani dai contadini che non capivano che cosa volesse proporre Pisacane per liberarli non so unificare l'Italia non riuscivano a capire neanche di cosa stava parlando li hanno fatti fuori in un attimo ecco quindi però erano spigolatrici anche loro no quindi povere contadine a Sapri così come queste povere contadine qui dicevamo nella campagna francese l'altro capolavoro quadro che tutti probabilmente conoscono di Jean-François Millet è l'Angelus vediamo che cosa dice lui stesso riguardo a questo quadro lui scrive l'Angelus è un quadro che ho dipinto nel ricordo di quando insieme alla nonna seguivamo i lavori dei campi e al vespro giungeva fino a noi il suono delle campane essa allora ci faceva scoprire il capo e ci raccoglievamo in preghiera elevando il pensiero nella rievocazione dei cari defunti quindi ispirato dicevamo da questa eredità della nonna lui ha dipinto probabilmente uno dei quadri più religiosi della storia dell'arte più intensi da questo punto di vista in buona sostanza questi due contadini hanno raccolto delle patate si può dire per tutta la giornata anche in questo caso come nel caso delle spigolatrici hanno lavorato tantissimo come dei matti per poter raccogliere un cesto di patate e non più di questo che si trova nella parte bassa del dipinto che adesso è un po' nascosta a dire la verità dalla scritta di Miglie ecco purtroppo adesso non riesco a farvelo vedere intero però credo che lo conosciate è proprio semplicemente un cesto di patate ora in fondo si intravede la chiesa con il campanile da cui si sente il suono delle campane del vespro che richiamava anche i contadini a casa a finire il lavoro e questo suono spesso scandiva la giornata ed era seguito nei contadini più religiosi dalla recita della poesia dell'Angelus lo si poteva fare quindi all'alba a mezzogiorno perché anche lì le campane suonavano per indicare che era il momento del pranzo e poi alla sera al tramonto adesso è rimasto soprattutto l'Angelus del mezzogiorno ce l'abbiamo in mente perché per esempio tutte le domeniche da San Pietro il Papa lo recita ma allora lo si recitava anche all'alba e al tramonto questo è proprio il caso dell'Angelus recitato al tramonto ora in cosa sta la grandezza di questo quadro prima di tutto l'abbiamo già detto nella grande dignità di queste persone e anche in questo caso nel raccoglimento cioè queste persone che hanno lavorato tantissimo tutta la giornata per quattro patate o poco di più vi assicuro non vedete il cesto adesso ma vi assicuro che ce ne sono ben poche di patate sarà un chilo o due al massimo da portare a casa per sé per la propria famiglia eppure adesso si sono fermate nel momento della preghiera dell'Angelus con grande dignità con grande concentrazione stanno pregando lo si vede certo la donna che si china anche ma anche l'uomo vi assicuro in una maniera più riservata però sicuramente esprime la compartecipazione a questa preghiera è talmente serio dignitoso l'atteggiamento di questi due personaggi che Salvador Dalì ha pensato che stessero pregando per i cari defunti perché sembrano rivolgersi a questo cesto di patate come se fosse una tomba del resto lo stesso Migliè aveva scritto il pensiero nella rievocazione dei cari defunti però la maggior parte degli studiosi dell'arte ritengono un po' forzata questa interpretazione di Salvador Dalì e ritengono quindi che in realtà è proprio una sorta di concentrazione religiosa quella di questi due personaggi in questo quadro certo che Van Gogh dipinse i mangiatori di patate sì è bellissimo anche quell'altro quadro adesso parleremo di Van Gogh mi sa che riusciamo a fare anche Van Gogh stasera perché la parte diciamo tra virgolette facoltativa di questo nostro incontro l'ultima è quella del rapporto fra Millet e Van Gogh a quanto pare sembra proprio che io possa continuare ancora quindi può darsi che si arrivi fino alla fine in questa mostra il dramma avvolto di splendori c'era una sezione dedicata al lavoro delle madri qui per esempio abbiamo un contadino che innesta un albero ma c'è questo titolo il lavoro delle madri perché comunque anche educare i figli è considerato un lavoro che ha una sua dignità sapete com'è nella società industriale ad esempio la casalinga tra virgolette perde dignità perché non ha uno stipendio e quindi la donna cerca di lavorare lei nelle fabbriche cerca di assumere questa dignità che le è stata tolta ma nella civiltà contadina invece assolutamente lei era riconosciuto cioè era riconosciuta l'importanza del suo lavoro di crescere i figli di educare i figli lo vediamo per esempio in questi quadri di Miglie ad esempio qui abbiamo una contadina che allatta cosa scrive lo stesso Miglie la bellezza non abita nel viso ma si irradia dall'insieme della persona è in ciò che conviene all'azione del soggetto i vostri graziosi contadini starebbero male a raccogliere legna a spigolare sul solco di agosto ad attingere l'acqua dal pozzo quando farò una madre cercherò di farla bella solo per lo sguardo su suo figlio la bellezza è l'espressione ecco probabilmente è riuscito in questo intento lui ha dipinto qua una madre noi la madre la vediamo di profilo insomma non vediamo il volto proprio di fronte perché quello che interessa è in un certo senso il legame col bambino cioè lo sguardo che si incrocia col bambino che sta allattando oppure in quest'altro quadro in cui abbiamo una donna che cuce accanto al suo bambino addormentato scrive sempre lo stesso Milly ciò che muove la mia arte è l'umano il valore dell'umanità questo stare accanto al bambino che dorme non lasciarlo solo si sta lavorando perché la donna per esempio nei campi volevo dire scusate la donna contadina la donna di questa società contadina spesso cuceva abbiamo già visto anche prima le due donne che cucivano ebbene però fa continua a fare il suo lavoro che è necessario ma lo fa accanto al bambino che dorme oppure quest'altro bellissimo quadro anche perché scusatemi ma a me piace molto la carnagione di questa donna che è molto scura quindi mi piace in questa nostra società multietnica che Jean-François Millet dipingesse una donna di carnagione così scura molto dignitosa molto importante perché chiede di fare silenzio sapete l'autorevolezza non è una cosa che si può imporre per un per un grado per un ruolo che si che si ricopre no in questo caso l'autorevolezza deriva dalla serietà dall'importanza di quello che sta facendo ma questa donna non sta facendo niente di così straordinario originale anche in questo caso ha messo a letto un bambino e chiede di fare silenzio perché non si svegli questo bambino scrive ancora Millet farò quanti più disegni posso e per quanto più tempo possibile che colgano il lato intimo della vita qui per esempio ha colto questo aspetto interessantissimo oppure quest'altra donna che sta dando da mangiare a un bambino il quadro si intitola la zuppa e prima però di dare la cucchiaiata al bambino ci soffia sopra perché non sia troppo scottante bollente il fondo di tutto è sempre questo bisogna che un uomo sia prima colpito per poter colpire gli altri e che tutto ciò che è teorico per quanto abile sia non può raggiungere questo scopo poiché non ha il soffio della vita è un bronzo che risuona è un cembalo che tintinna per citare San Paolo ecco quindi anche quest'altro quadro adesso terminiamo questa prima parte poi faremo una seconda parte sui rapporti fra Millet e Van Gogh è un bellissimo quadro che ci rappresenta la dignità delle donne del lavoro delle madri un lavoro che è loro di curare i bambini che è un lavoro importante come questa per esempio questa madre che dà da mangiare ai figli oppure quest'altra quest'altra donna la precauzione materna che fa sì che il bambino faccia la pipì fuori di casa per esempio oppure quest'ultima che fa la prima lezione di lavoro a maglia ed è bellissimo questo quadro perché praticamente la donna non sta insegnando teoricamente alla bambina a fare il lavoro a maglia ma gli sta guidando le mani in modo tale che poi sia lei da sola a proseguire questo lavoro allora terminiamo qui questa serata con quest'altra quadro simile sempre di lezione di lavoro a maglia a me piace molto di più questo perché vedete che guida le mani però anche questo è molto bello perché in questo caso la bimba ormai più cresciuta da sola può cimentarsi nell'arte del lavoro a maglia e in questo caso la donna la madre la fianca pronta comunque a correggere